Marvel What If Episodio 7 Tanta, tanta, tanta roba Wabalabadabdab e bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Marvel e bentornati nella rubrica What If e lo dico finalmente con grande passione dopo diverse puntate in cui parlavo di questa serie per completezza, per fare il compitino ma non mi stavano più entusiasmando come per esempio il secondo episodio, quello con Challa l'ultimo con Partitor non ne parliamo neanche qua si va proprio invece su quello che dovrebbe fare questa serie farci sapere cosa sarebbe successo se i cattivi avessero vinto avevamo già visto nella puntata in cui Hank Pym fa fuori tutti gli Avengers prima che nascano una ipotetica vittoria di Loki nel finale di quell'episodio quindi Loki che conquista Midgar, che conquista la Terra ma qui il pericolo è ancora più grande perché il nemico del secondo Avengers ovvero Ultron ha in mente solo una cosa, l'estinzione degli Avengers e in secondo luogo l'estinzione del genere umano perché il genere umano è guerrafondaio, non è capace di provvedere a se stesso di conseguenza Ultron per portare la pace sulla Terra decide che bisogna eliminare l'umanità prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che vogliono conquistare il mondo e commentare qui sotto con quello che viene parso di questo episodio e di questa serie in generale vi ricordo che potete seguirmi anche sugli altri miei social che oltre a apparire qui davanti sono qua sotto come link cliccabili dove trovate anche dei fantastici link Amazon ora dico quasi ma poi ci arriviamo vediamo finalmente il progetto di Ultron completato come lo avrebbe voluto lui vediamo la sua visione e no, non sto parlando di visione l'androide ma del fatto che Ultron riesce a completare il suo piano di conquista del mondo quindi la culla con il corpo in vibranio creata da lui dove nel film Avengers Age of Ultron invece i nostri eroi erano riusciti a rubare questo corpo a impiantarci l'intelligenza artificiale di Jarvis quindi creando un essere totalmente diverso da Ultron qui Ultron invece riesce nel suo scopo ovvero riesce a downloadarsi nel corpo di visione creando quello che voleva fare dall'inizio ovvero un Ultron organico fondamentalmente più organico del corpo robotico che aveva all'inizio infatti vediamo che poi quando dovrà combattere in tutto l'universo con le gemme dell'infinito si crea un'armatura che ha le fattezze del prototipo di Ultron ma solo, penso, per un suo vezzo in realtà poteva creare una qualunque armatura decide di avere questa armatura con le fattezze del suo vecchio corpo partiamo proprio da questo punto c'è una scena in cui Thanos viene sulla Terra ovviamente attirato dalla gemma della mente che è nella testa di Ultron quindi anche questa scena non è assolutamente gratuita è perfettamente in linea con i proposi di Titanos vediamo un Ultron che non è depotenziato come è successo a Visione in Infinity War dove Visione si distrae per la topa si distrae perché è innamorato di Scarlet Witch di conseguenza in Civil War ferisce per sbaglio Rodi War Machine al posto di colpire Falcon e in Infinity War si distrae facendosi trafiggere dalla lama di uno degli araldi di Thanos di conseguenza non riesce più a cambiare la sua densità qua invece non è depotenziato questo corpo è un Ultron potenziato al massimo che con un solo potere della mente riesce a dividere in due parti Thanos incuriosito dalle gemme dell'infinito se ne impossessa e abbiamo praticamente un Ultron che riesce a possedere la forza del guanto dell'infinito avendo tutte le gemme nella propria armatura e niente po' di meno che la gemma della mente nel proprio cervello io qui però ho trovato diciamo un paio di incongruenze poi per carità è vero che Ultron essendo un robot anomalo in realtà è uno squilibrato però Ultron vuole distruggere l'umanità, la Terra perché il genere umano è guerrafondaio non capisco perché voglia distruggere gli altri mondi posso capire che voglia distruggere un mondo come Sakhar dove governano le lotte dove governa il potere di alcuni sulla povertà di altri però pianeti come Xander mi sembrano abbastanza ordinati non capisco il suo desiderio di annullare l'esistenza anche su pianeti più diciamo pacifici per il suo punto di vista però vabbè diamola per buona perché comunque vogliamo vedere un Ultron che vuole distruggere l'intero universo ovviamente ce la fa riesce persino a battere Captain Marvel e devo dire che sono contento che hanno tolto di mezzo Captain Marvel in questo episodio perché sarebbe stato troppo un Deus Ex Machina dopo le altre volte che lo hanno usato sono felice che qua invece le ultime speranze del genere umano siano gli Avengers più umani ovvero Occhio di Falco e Vedova Nera l'idea di tirare fuori Arnim Zola dal cappello, dal cilindro è fantastica perché è l'unica intelligenza artificiale analogica presente sul pianeta stavano quasi riuscendo nell'intento di inserire appunto questa intelligenza analogica in un Ultron in uno dei tanti robot sentinelle di Ultron che però purtroppo capita nel momento più sbagliato perché Ultron è diventato talmente potente e anche qui secondo me è un'altra piccola incongruenza da riuscire a percepire l'osservatore ora se un'intelligenza artificiale come Ultron con il potere della gemma della mente e di tutte le altre addosso riesce a percepire di essere osservato riesce a percepire la presenza dell'osservatore io posso anche capirlo però non riesco a capire come lui nel momento in cui riesce fisicamente a sfondare la nostra realtà per passare alla zona dove esiste l'osservatore che potrebbe essere assimilabile alla TVA per esempio non capisco come lì possano funzionare le gemme dell'infinito dal momento che abbiamo visto nella serie TV Loki che le gemme dell'infinito alla TVA quindi in un posto fuori dal tempo fuori dalla realtà potrebbe darsi che la TVA sia nel regno quantico ma non lo sappiamo ancora però ecco trovo strano che lì i poteri di Ultron funzionino in realtà nel momento in cui Ultron sfondava la parete della realtà del nostro universo l'osservatore avrebbe avuto avrebbe dovuto avere più potere di Ultron e avrebbe dovuto sconfiggerlo come se fosse un normalissimo Ultron che è comunque potente però ecco avrei preferito vedere almeno un secondo in cui in quella realtà Ultron non aveva il potere delle gemme dell'infinito ecco queste sono le uniche due incongruenze che ho trovato in questo episodio che è stato fatto veramente molto bene e che ci fa capire insieme all'episodio di settimana prossima che sarà l'episodio conclusivo della prima stagione pare avere appunto un finale in due episodi quindi in un episodio di 50 minuti anziché di 25 che andrà a toccare tutte le altre realtà che abbiamo visto finora quindi anche l'episodio di Partitor con un finale con questo Ultron nel corpo che sarebbe dovuto essere quello di Visione che non capivamo finalmente ha un senso è molto probabile che l'osservatore con l'aiuto di Doctor Strange Supremo vadano a pescare Avengers nel multiverso per poter sconfiggere Ultron e questo ovviamente lo vedremo nel prossimo e ultimo episodio quindi probabilmente ci sarà Capitan Carter ci sarà Capitan America scusate ci sarà Steve Rogers nel nel robottone quello fatto da Howard Stark probabilmente vedremo il Doctor Strange Supremo magari vediamo Peter Parker con il mantello di Doctor Strange chissà che non usino anche i Marvel zombie per in qualche modo rallentare le sentinelle di Ultron vedremo vedremo cosa si inventeranno per questo finale devo dire che questa puntata finalmente ha alzato la mia sticella dell'hype e non vedo l'ora di vedere la prossima puntata spero che se facciano una seconda stagione sia a questo livello ovvero dove c'è una minaccia interplanetaria magari una minaccia talmente fantasiosa talmente potente da da creare da dover giustificare l'utilizzo di una serie animata e non di un film quindi come in questo caso dove si tirano in ballo molti versi e forse è questo il vero scopo di una serie come What If o meglio ci sta che essendo un What If ci siano tanti episodi singoli che ci mostrano tante realtà differenti ma questo finale diciamo riesce a rendere giustizia un po' a tutta la stagione fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo episodio fatemi sapere se avete hype per il prossimo episodio scrivetemelo qua sotto nei commenti scrivetemi cosa pensate potrebbe succedere magari scrivetemi anche dei What If che vorreste vedere in una ipotetica seconda stagione io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti